Prenderà il via il restauro della fontana di Piazza Grande. Lo ha annunciato il primo rettore della Fraternita dei Laici, Pierluigi Rossi, questa mattina nel corso di una conferenza stampa. I lavori, che termineranno tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, sono stati resi possibili attraverso il contributo di UbiBanca per un importo che si aggira intorno ai 15.000 euro. La fonte di Piazza Grande è un simbolo per la città di Arezzo perché ha un valore anche simbolico dell'attività della Fraternita stessa, perché è un'opera di misericordia corporale, dare l'acqua agli assetati. E quindi ha un valore simbolico, ha un valore storico perché è stata la fonte che ha dissetato la nostra città, è stata la fonte che ha consentito anche il primo impianto dell'acquidotto comunale nella seconda parte dell'Ottocento. E ha anche un valore artistico perché esprime la creatività, la genialità, la manualità della nostra comunità aretina. Cioè tutti questi valori sono all'interno dell'istituzione più autorevole e più antica della città di Arezzo che è appunto la Fraternita dell'Aici. Un altro restauro, un altro importante recupero di un arredo che fa parte della platea Magna, la piazza più importante della città, accadrà che il restauratore si occuperà di recuperare sia da un punto di vista proprio di conservazione ma anche di funzionamento delle bocche di uscita dell'acqua e quindi di salvaguardare il bene proprio come un significativo soprattutto elemento che dal 1600 praticamente fa bella vista nella piazza grande di Arezzo. Bisognerà cercare di capire di concerto con naturalmente con la direzione dei lavori, con la sua intendenza che seguirà tutto l'intervento fase per fase come ripristinare la fuoriuscita dell'acqua perché pare che in origine uscisse diversamente, quindi sgrondasse dal bacile della tazza superiore e quindi si tratterà di fare un po' di prove dopo aver naturalmente ripristinato il funzionamento delle bocchette di metallo. Nell'archivio della Fraternita dei Laici abbiamo trovato tutti i dettagli dal 1603, anno in cui venne installata la fontana, ai giorni nostri tutte le fasi che hanno caratterizzato la creazione di questo straordinario monumento. Nel 1794 venne sostituito il bacile della fontana e nel 1840 per mettere i nuovi cannelli, per prendere acqua, venne fratturato il bacile che risulta appunto fessurato e soprattutto venne modificato quello che diceva prima il rettore Luca, il sistema di deflusso delle acque che produceva un rumore molto più armonico di quello che usa adesso. Quindi dopo che la Fraternita ha ristrutturato l'acquedotto vasariano, oggi è possibile arrivare a risistemare questo effetto straordinario che a fine restauro gli aretini potranno godere.